Ciao a tutti e benvenuti. Oggi parleremo di un tema delicato e di grande interesse, la condizione di salute di Fedez. Prima di iniziare, sottolineiamo che tutte le informazioni presentate sono frutto di pura immaginazione e non rispecchiano la realtà. Negli ultimi giorni, il web è stato pervaso da voci riguardanti la salute di Fedez. Diverse fonti anonime hanno avanzato ipotesi sulla possibile sfida personale che l'artista italiano sta affrontando. Fedez ha scelto di affrontare direttamente le voci sulla sua salute. Attraverso un comunicato ufficiale rilasciato sui suoi social media, l'artista ha svelato i dettagli della sua condizione e ha affrontato le speculazioni. La reazione dei fan non si è fatta attendere. Inondando i social media con messaggi di affetto e supporto, dimostrano quanto siano uniti nel sostenere Fedez durante questo momento delicato. In situazioni come queste emerge l'importanza del rispetto per la privacy degli artisti esperti del settore condividono il loro punto di vista sulla gestione delle informazioni personali in un mondo sempre più connesso. In conclusione, mentre continuiamo a seguire la carriera di Fedez con interesse e affetto, è fondamentale ricordare che la salute di una persona è una questione privata. Lasciamo che l'artista gestisca il suo percorso personale nel modo che ritiene più appropriato. Grazie a tutti per aver seguito questo video. Se avete opinioni o desiderate condividere il vostro pensiero, lasciate un commento qui sotto. Ricordatevi di condividere questo video se pensate che possa essere utile o interessante per qualcun altro.